Musica Abbiamo parlato dell'erranza, abbiamo parlato ieri della tempesta ma anche dei pirati e oggi ritorniamo a parlare di questo elemento, un elemento simbolico, metaforico che poi ha attraversato anche gran parte della storia della filosofia. Allora le lancerai la domanda con una frase di Nice che abbiamo utilizzato per uno degli appuntamenti dei sotterranei, anche il mare sogna. Ecco intorno a questi sogni del mare la filosofia si è spesso interrogata. Sì, allora innanzitutto la filosofia potrebbe essere un sogno del mare, perché abbiamo visto che la filosofia nasce nell'arcipelgo, tra le isole e accompagna appunto le prime spedizioni sul mare, come abbiamo anche raccontato le volte precedenti. Con una piccola differenza rispetto alla navigazione, perché la navigazione, quella che si fa concretamente, è rischiosa. Lo sapeva bene Ulisse, lo sapeva bene quando si fa le gare all'albero per non essere tentato dalle sirene. Ulisse se la cava, come noto, torna a Iteca a fare degli altri viaggi, mentre i suoi compagni, no, i suoi compagni a uno a uno, muoiono tutti nei flutti. Di lì l'invettiva di Ezra Pound, quando dice, voi i compagni di Ulisse cosa ne avete avuto? Lui giaceva con circe, voi niente. Lui ha rivisto gli ulivi sotto Sparta e voi avete le vostre ossa spolpate in mezzo ai pesci. Allora, la navigazione filosofica, forse, potrebbe essere una navigazione meno distruttiva, meno pericolosa, meno rischiosa, senza questa divisione tra il grande eroe Ulisse e i suoi compagni che invece vengono lasciati dispersi. E, appunto, Dante, ormai alza le vele la navicella del mio ingegno, oppure Shomusini, il grande poeta irlandese, la nostra barca per la nostra navigazione è un lapenna del poeta, piantata come l'albero a cui Ulisse si era fatto legare. O Leibniz, il mare del sapere è immenso e da isola a isola, da golfo a golfo, si uniscono tutte le discipline in un tentativo di comprensione che non finirà mai. Questo è il viaggio, appunto, della filosofia. Una navigazione, appunto, senza rischi, apparentemente senza rischi. Perché ogni tanto qualche filosofo fa naufragio, è vero, può farlo perché lo desidera, come Nietzsche che avete ricordato, il naufragarmi è dolce in questo mare di leopardi, ma talvolta il naufragio del filosofo non è voluto, almeno apparentemente, dal filosofo. L'amico Regazzoni l'altro giorno ricordava le disavventure di Socrate, perché non aggiungerci quella di Serveto, a Ginevra, o a Roma quella di Giordano Bruno, in Campo dei Fiori, o per venire più vicini a noi al povero Lord Bertrand Russell, espulso dagli Stati Uniti perché anti-americano, che predicava una morale contro gli ideali della vecchia America dei pionieri. Ce ne sono molte di queste storie. Ci sono anche storie più recenti di filosofi che sono naufragati in questo modo tragico. E allora qual è l'unica soddisfazione del filosofo in questa navigazione? L'unica soddisfazione è quella di aver tentato di aver indicato nuovi continenti, di aver lottato contro le sirene o contro qualsiasi altro mostro, ma di averlo fatto non solo per sé, ma di averlo fatto per tutti quanti. In questo senso, per me tra l'altro è stato un grande onore venire qui a PopSofia, anche quest'anno, introdurre queste splendide performance musicali e allora mi volevo congedarvi da voi con la citazione del mio filosofo preferito, che è un augurio, ed è la citazione di un navigatore della mente che non si è mai troppo mosso dalla sua nativa Olanda, è terra di marinai, è terra di commercio, è terra di esplorazione. Benedetto Spinoza, parte quarta dell'etica, proposizione 67. A nulla, l'uomo libero, io aggiungerei anche la donna libera, visto che abbiamo fatto l'elogio di Mary Reed e di Annie Bonny l'altro giorno, le due grandi e intrepide piratesse del settecento, ecco, a nulla l'uomo e a nulla la donna libera pensa meno che alla morte e la sua è una meditazione non della morte ma della vita. Che sia un augurio per tutti noi.